Sono arrivati anche Daniscemi e da Piazza Merina per affrontare la vicenda Liberi Consorzi, appuntamento ieri nei locali di Villa Peretti a Gela. L'iniziativa è stata promossa dal nuovo PSI. Si è parlato della legge regionale numero 15 del 4 agosto scorso su disposizioni in materia di Liberi Consorzi e città metropolitane. Lo scopo della tavola rotonda è stato quello di promuovere la discussione tra i protagonisti, gli esperti, gli amministratori ed i cittadini su un argomento molto sentito. Il territorio di Gela nel contesto dell'area vasta della città metropolitana Etnea. Dopo il referendum che ha deciso il passaggio delle tre realtà, Gela, Niscemi e Piazza Merina a Catania, non sono state ancora stabilite le competenze, soprattutto in ambito sanitario ed amministrativo. Gela vuole che il volere dei cittadini venga rispettato. Il fatto che le istituzioni siano rispettose di quello che hanno proprio loro portato avanti è una cosa gravissima. Noi riteniamo che non si può giocare sulla vita dei cittadini perché questa situazione di limbo non consente all'amministrazione di prendere dei cammini e delle decisioni. Il fatto di non sapere di essere ancora ad oggi sulla città metropolitana in modo ufficiale e di rimanere legati in modo forzoso su Caltanissetta sinceramente provoca dei problemi. Non riesce ad avviare quel cammino che la nostra collettività ha bisogno. Ci sono troppi problemi e non si può scherzare con la vita dei cittadini. Vorremmo cominciare a discutere di soluzioni serie e concrete per problemi riguardanti l'agricoltura, i beni culturali, la sanità, tutte quelle che sono le attività legate al mare e tutto quello che è il bagaglio culturale ed economico che Gela porta all'interno della nuova area metropolitana di Catania. Noi siamo pronti a confrontarci su quelle che sono le nostre idee e su quelli che sono i nostri progetti concreti. Il comprensorio sud sarebbe quello rappresentato da Piazza Armerina, Gela, Niscemi dove il polo agroalimentare, il polo turistico e culturale e il polo industriale vengono praticamente a confluire e a creare le basi per un elemento portante soprattutto. Il sindaco di Niscemi Francesco Larosa. Se Niscemi ha da versare tributi, da dare contributo economico, sociale, siamo pronti, però rivediamo un po' tutto, ripartiamo con il piede giusto per non creare una nuova struttura che alla fine ci riporta a dividerci fra qualche anno.